Dopo un debutto da play-off rigonfio di speranze e suggestioni, in gara 2 suona altra musica e alla serena il tabellone sentenzia 70-51 per la Virtus Bologna e un 2-0 nella serie che porta la Carpegna-Prosciutto-Pesaro ad una gara 3 di giovedì alla Vitri Frigorena che diventa match da dentro fuori. Pesaro tiene nel primo quarto ma poi la forza della prima della classe va tracimando fino ad un'inizio ripresa di difficile contenimento e fino ad un'ultima frazione di divario incolmabile. Le troppe palle perse, era successo in gara 1, è un dettaglio che ovviamente è legato anche all'aggressività e alla fisicità dei nostri avversari. A dispetto di questo, soltanto 9 volte in lunetta, con un'oggettiva difficoltà a costruire dei vantaggi, come detto con 20 palle perse poi diventa complesso competere. Quando poi certe palle perse non sono nemmeno frutto dell'aggressività dei tuoi avversari, questo fa generare un po' di frustrazione. La partita credo che abbia preso purtroppo a inizio terzo periodo una direzione che poi è difficile invertire quando, come detto, è mancata l'energia, la forza e anche la lucidità. Palle perse e nervosismo, come quello di Tariq Jones, che al 28esimo è costretta ad abbandonare la partita per un fallo tecnico. Ha commesso un errore nonostante le parole spese, sapevo che atmosfera avrebbe trovato stasera in campo, fuori dal campo. È bersaglio dei suoi avversari, si sente vittima di fischi, insomma l'avete visto tutti quello che è successo in gara 1 e poi lui non ha ancora forse la maturità per gestire emotivamente certe decisioni. Si è fatto travolgere dai nervi, dalla frustrazione, per noi è importante averlo in campo, è una pedina fondamentale sia nel nostro sistema offensivo che difensivo. Spero che faccia tesoro di quanto è accaduto. Abbiamo un'opportunità unica, nessuno immaginava che potessimo sedere a questo tavolo. Siamo qua, dobbiamo goderci ogni istante, dobbiamo dimostrare a noi stessi prima di tutto che apparteniamo a questo livello. Abbiamo giocato una prima partita convincente, stasera come detto sono mancate le forze, ma anche la lucidità. E quindi è un imperativo già per la prossima, dove dobbiamo riordinare le idee, giocare come una squadra, sapere che riuscire a farlo contro un avversario così forte, così blasonato, così profondo, ti spinge veramente a giocare al massimo delle tue possibilità. Ora bisogna ricaricare le batterie. Giovedì sera il pubblico biancorosso sospingerà la squadra in un match di play-off che manca a Pesaro da un decennio per provare un'impresa che non renda quello del 19 maggio l'ultimo capitolo di questa stagione di redenzione.